ciao maria oh giuseppe che stai combinando oggi sto pulendo l'insalata brava maria cosa cosa fai con questa insalata oggi sto pulendo l'insalata perché dobbiamo fare l'insalata stasera ma si si preparando l'insalata per stasera brava maria che togli tutte le foglie quelle là brutte e ma quella è bella facciamo l'insalata che brava maria sei bravissima e poi e guardi che bella rosa che c'ho hai fatto anche le rose quest'anno guarda quanto è bello la mia rosa come bello maria rosa rose rosse per te maria e brava maria allora saluta tutti i nostri followers la vostra cara maria ciao maria saluti ciao